Da ottobre, quando abbiamo saputo dai giornali della volontà da parte di Marche Multiservizi di costruire questo digestore anaerobico nella nostra area a Talacchio, abbiamo cominciato ad informarci, abbiamo inviato delle PEC per ottenere informazioni, ma non siamo mai stati né ricevuti né abbiamo avuto risposte di anche un tipo. Abbiamo cominciato la nostra azione informativa con i cittadini, abbiamo realizzato più seminari online quando c'era il periodo della pandemia e del lockdown. Oggi si può fare fuori, questa è la terza iniziativa che facciamo all'aperto. Abbiamo raccolto oltre 5.000 firme in questo periodo che abbiamo consegnato sia in comune che in provincia, dimostrando che la gente è preoccupata ed è tanta la gente che in questo momento sta manifestando la propria opposizione. Non abbiamo alcun tipo di risposta e nessuna presa di posizione da parte dei nostri amministratori, anche se al posto delle parole i fatti dimostrano che stanno creando i presupposti affinché questo possa avvenire, con delle varianti all'interno del piano regolatore come l'ultima che hanno approvato nel Consiglio Comunale della fine di maggio, dove prevedono la possibilità non più solo di restauri conservativi per edifici e casolari e casualmente anche i due che insistono nell'area prevista per questa costruzione, ma anche ristrutturazione edilizie, quindi significa demolizione, ricostruzione e delocalizzazione. Quindi direi che non prendono posizione in pubblico ma compiono atti che sono una chiara manifestazione di volontà, così come hanno fatto durante tutti questi otto mesi, sponsorizzando tutte le volte che hanno potuto, sia il comune di Vallefoglia che il comune di Tavuglia, la proponente Green Factory creando i presupposti affinché potesse continuamente veicolare il suo messaggio, senza alcun tipo di contraddittorio e soprattutto senza che la gente potesse partecipare liberamente. Anzitutto devo dire che la logica dei biodigestori, sia per produrre biogas che per produrre biometano, sono una modalità non valida dal punto di vista ecologico della sostenibilità, perché comunque creano impatti ambientali. La logica di bruciare poi il biometano è come bruciare il metano, quindi non risolviamo il problema, che a monte, se vogliamo affrontare le questioni dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, è di non produrre nuove combustioni, quindi tutto ciò che brucia e infatti questa non è economia circolare che che ne dicano i promotori, perché l'economia circolare, lo dice l'Unione Europea, è quando si ricicla la materia ma non si produce energia da bruciare, cioè biocarburanti o altri tipi di materiali che richiedono una combustione per produrre energia. Quindi l'obiettivo primario deve essere quello di recuperare la materia, quindi piccoli impianti aerobici, cioè con l'ossigeno, per avere un compost di qualità è l'obiettivo primario a livello europeo e a livello anche di buonsenso e di chiunque si occupa di problemi ambientali, ecologici e agricoli.